Salve a tutti, continuiamo la lettura del libro di Sulema, L'Illuminazione della Coscienza. Maria, regina della pace, 4 dicembre 2010, primo sabato del mese. Esercitarsi alla virtù della pazienza. La pace e la serenità verranno in seguito. Fai il segno della croce, scrivi, coperta dal prezioso sangue del mio divino figlio Gesù Cristo, il Signore, per la gloria di Dio suo Padre. Figlia mia, bisogna esercitare la virtù della pazienza verso se stessi, soprattutto verso gli altri. Tu sai che per arrivare agli altri bisogna vincere se stessi per giungere all'oblio di sé. Ci si può arrivare con altri mezzi, ma è più difficile. Tutti i giorni, direi, anche in ogni momento bisogna adenarsi senza scoraggiarsi. Miei figli di luce, così come vi siete esercitati nella fede e nella fiducia, dovete farlo anche con la pazienza. Vederete così cosa succederà a ognuno di voi. Vivrete una pace più intensa e piano piano la serenità entrerà nel vostro cuore grazie alla vostra perseveranza. Grazie ai figli miei di continuare a pregare. Per le mie intenzioni, siate benedetti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A me, ad Eulia. La virtù della pazienza è una virtù che purtroppo non possiamo acquisire da noi stessi, ma è una virtù che dobbiamo chiedere a Gesù prima di tutto nella preghiera. Una preghiera però con il cuore, non una preghiera meccanica. E poi dobbiamo esercitarla. E quindi la pazienza la possiamo inserire in molti ambiti. Magari nel mio ambito, in questo momento dove sono senza cellulare perché è scoppiata la batteria, sono già quattro giorni che sono senza cellulare e forse resterò senza cellulare per altri cinque, dieci giorni. Non lo so, questo perché la batteria che ho acquistato deve ancora arrivare e questa settimana ormai è andata. Allora devo avere pazienza nell'attendere che arrivi la batteria per poterla montare, così posso ritornare a utilizzare il cellulare, anche se lo utilizzavo veramente poco. E la pazienza è necessaria perché magari bisogna chiamare a determinati clienti, colleghi, amici, fare quella vita del mondo dove tutti ormai sono davanti a un cellulare, anche quando guidano causando incidenti catastrofici. E mi rendo conto come le giornate durano di più senza stare al cellulare. Mi rendo conto come la vita è ancora più bella senza il cellulare, senza quell'attaccamento morboso che le persone purtroppo hanno dalla mattina alla sera. Allora la pazienza è necessaria per arrivare a sperimentare la pace nel proprio cuore. Perché uno dei nemici della pazienza è la tentazione della fretta, quindi la tentazione di voler avere tutto e subito perché altrimenti quel fuoco ti livora dentro. Come ad esempio un fidanzato è partito e la fidanzata sta uscendo pazza perché non lo vede, lo sente però non lo vede e quindi dentro di sé prova quel fuoco che non riesce a spegnere, che magari la porta a stare male, a dormire poco, perché gli manca quell'altra metà che si è staccata momentaneamente. Anche in queste situazioni bisogna avere pazienza. Allora vediamo questo mondo dove, questo paese d'Italia, dove il Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro ha destabilizzato molte persone. Bisogna avere quindi tanta pazienza per chi vuole vaccinarsi, per chi non vuole vaccinarsi, ma soprattutto per coloro che non vogliono o non possono vaccinarsi. e quindi devono avere una grande pazienza per lottare contro questo sistema che non gli vuole dare lo stipendio e lo certifica come assente poiché non ha questo marchio. Anche qui ci vuole tanta pazienza nel sopportare tutte queste cose. Però la pazienza è una virtù che va alimentata dalla preghiera. Quindi io comincio a sperimentare la pazienza, non fumando, non giudicando, facendo silenzio in tante situazioni, stando di meno al computer o al cellulare, e continuando a pregare, continuando a chiedere a Gesù di darmi la forza di mantenere questa sperimentazione della pazienza durante le mie giornate. Senza la preghiera, con l'aiuto di Gesù, non possiamo fare nulla. E questo bisogna che ce lo mettiamo in testa. Senza preghiera non possiamo sperimentare nessuna virtù, non possiamo raggiungere nessuna vetta spirituale. Siano dato Gesù Cristo nel cuore calcolato di Maria. Grazie a tutti. Grazie a tutti.